In campionato, tua prestazione è veramente super come le ultime, assolutamente indiscutibili, però non è servito. No, purtroppo non è servito, c'è un enorme rammarico perché sinceramente non ce l'aspettavamo di subire un gol così alla fine. È stato un po' bizzarro come cosa, io ancora non l'ho visto, sinceramente il gol a me, almeno dalla mia prospettiva, sembrava che fosse fuori gioco, ma poi quando andremo a rivederla vedremo, siamo stati un po' ingenuo nel commettere magari un po' troppi falli intorno al rigore e quindi niente, probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa, dal punto di vista sicuramente dell'atteggiamento in primis. Per quello che riguarda la sconfitta, come la giustifichi? Da parte vostra vi siete parlati, vi siete detti qualcosa negli spogliatoi e credi che si possa un attimino fare un mea culpa come squadra e tornare subito alla vittoria? Sì, quello senza dubbio, penso non ci sia nemmeno bisogno di parlare, chiaramente siamo guardati tutti quanti negli occhi e abbiamo capito che deve cambiare registro anche perché comunque l'atteggiamento di oggi non è stato bello propositivo o che serve una squadra che deve comunque vincere domenica dopo domenica. Chiaramente questo deve essere un grosso incentivo o comunque deve essere uno stimolo per cambiare immediatamente registro e per iniziare già domenica prossima a vincere come è. Comunque come te la spieghi questo tipo di debacle odierna? Cioè magari la partita di Coppa è inciso, voi siete arrivati mentalmente scarichi, un po' di presunzione, ci sta tutto. Qual è il tuo punto di vista? Ci sta tutto, ma non penso sia nemmeno un problema di presunzione. Loro sono messi male in campo, abbiamo faticato a trovare dei spazi, però magari non abbiamo avuto la giusta pazienza forse per allargare il gioco, la giusta freddezza magari per provare ad infilarli. Ecco, c'è stata una forte carenza magari di concentrazione, c'è stato meno spirito di sacrificio probabilmente, quindi l'abbiamo pagato, purtroppo in queste categorie è così. Quando non c'è sacrificio, quando non c'è collaborazione, è un dramma insomma, è una cosa problematica. Alla forza per domenica? Quella assolutamente sì. Grazie. Ciao.